ah ma sto compleanno sta durandoci a passare anzi ricordiamolo che poi cominciò a scrivere ucuri conta ucuri conta è 17 luglio ragazzi lui da una settimana gli arrivano regali a me comincia il 9 8 giorni prima e finisce il 25 8 giorni dopo il 17 luglio compigliano ma che è quest'altro regalo di chi è? arriva da una mia follower amorosa e chi è questa follower a Borrello ecco allora sono da Borrello leggiamo leggiamo buon compleanno armando un pensiero per i tuoi futuri viaggi da debora falcetta per i viaggi e io sono un viaggiatore solitario cosa può essere per i viaggi necessaire ah il necessaire vediamo un necessaire vediamo brava falcetta per i viaggi ma vi ricapatti con mia qua si mettono le scarpe bellissimo guarda no lo deve aprire amore si lo apro veramente un regalo ora noi dobbiamo partire amore si ma i tuoi scappi non ci mettono infatti non ci capono con ogni e hai una scialuppa no dobbiamo mettere anche le mie scappe no no tu hai una scialuppa debora provvedi grazie hai una scialuppa ti ma ci capono pezzo no ci metto le mie perché non è che in basso al numero del piede per lì per lì non ce l'avevi tu questa no mi mancava una scialuppa ma ti stanno facendo regali intelligenti a modo devo dire no intelligenti regali funzionali sono intelligenti regali funzionali volevo dire eh eh qua ci metto le scarpe qua ci metto le infradite anche qua ci metto un altro paio ecco per così anche qua grazie falcetta veramente mi state lasciando senza parole quest'anno di chi stanno stupendo quest'anno veramente grazie 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 si ma qui mia non c'è niente manco questa volta però no non puoi elemosinare un regalo quando me lo fanno per il mio compleanno non lo faccio quando lo fai tu ah no certo non lo fai picchi picchi mi levi direttamente quando mi arriva una mia guardate ragazzi bellissimo guardate la funzionalità si mettono qua l'infradito ah ci devi mettere poi il separare eh certo bellissimo grazie grazie falcetta un bel regalo grazie 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 perché il 17 luglio oggi ancora è 14 o non qui non è oggi 14 quindi allora e quattordici allora vedi a parola quindi tra dei giorni il conte compie 65 anni ragazzi ma qualcuno ti ha chiesto? ma l'avreste detto mai quest'uomo che sto inquadrando 65 anni? ma qualcuno ti ha chiesto? certo tutti mi l'ho chiesto ogni volta e non lo so ma poi mai escono che finiscono a segnalare i profili e segnalano come ci divertono saluta va saluta 65 anni ragazzi grazie veramente di cuore grazie falcetta mi devi regalare un paio di scarpe no basta basta l'anno prossimo no lei tu tu mi devi regalare un paio di scarpe vabbè il mio regalo è lavorazione non lo sai saluta ciao ragazzi